Grazie a tutti. Sono partiti con Pompea. Clerici Erasolo, Gioia Infinita e Peppa. Pompea, Peppa e lotta poi Clerici Erasolo e Brunello con Pompea sempre in vantaggio. Pompea in vantaggio. Elia Rossi che sembra controllare le mosse finali fin sul palo da Peppa che è secondo. Quindi Elia Rossi con Pompea e colori della scuderia 8 che respingono Peppa. Per la terza moneta arriva Clerici Erasolo a precedere Brunello. Bella questa corsa. 6-5-2-1 per la quattordicesima tappa del campionato italiano. Corse Poni è tutto. Grazie. 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 Grazie.